scusa sponzo la devo rifare ti volevo dire sei in orario per il tabellone degli sconfitti al primo turno dove sei? adesso vengo ma dove sei sponzo? qui comincia tutto adesso a mezzanotte sponzo guarda che c'è roger raya che devi affrontare pensa che ryan ha fatto manco un game oggi ha perso 6-0 è venuto ha lasciato mezza piotta e hai fatto 0-15 io invece potevo andare molto avanti nel tabellone anche secondo me risultato bugiardo assolutamente sponzo però la cosa grave è che tu sei sparito dal circolo prima che arrivassi io ma adesso vengo devo venire è certo e devi giocare con raya porta pure a cosa da mangiare è da bere ma è finito torneo no 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 sta per finire però adesso dopo incontro alle finali cominciamo con i primi turni del sconfitto a primo turno no giochi con raya giudici arbitro viene maurizio sponzo sponzo vieni ma che c'è da fare dopo c'è raya già in campo qui cannata fazio invece è l'altro match l'altra semifinale perché ormai si parla direttamente di semifinale del torneo degli sconfitti al primo turno di essere già in finale abbiamo avuto già tre bai perché perché merda cianelli si è dato perché come tanti come tanti perdenti al primo turno si sono dati invece di restare storicamente qui come il nostro grande roger raya che è venuto non ha fatto un 15 però è ancora qui il vero tennis lo fa di là che si rompa le palle e qua viene per cazzeggiare grande roger raya meriterebbe la vittoria del torneo degli sconfitti a primo turno ha già vinto perché è l'unico che ha firmato il foglio per continuarlo sai che i tornei ti danno il foglio per continuare il tabellone di quarta di terza se ti qualifichi al tabellone successivo e quindi raya è l'unico che l'ha firmato e quindi merita la coppa tanto grande tennis nei campi araboots grande tennis vabbè ragazzi qui la fine la farei campo 5 tutti i palazzi e e comincerei e comincerei e comincerei il torneo degli sconfitti a primo turno qui sul centrale cioè tutta la giornata è veramente in chiave di questi grandi mesi alfredino non sta nella pelle c'è il trofeo fangarelli non ci sarà il 23 giugno non ci sei lavoro alfred ma quanti saldi ti fa comunque ti do un'anteprima quest'anno ci sarà la twins cap la twins cap mi sa tanto di pride come come il nome questo qui ah si il gay twins pride beh vabbè comunque non è che siamo contrari anzi però tu sei contrario assolutamente no anzi sono stra pro basta che pagano è fluido sono fluido rapporti liquidi out grande grande tennis vabbè ragazzi qui speriamo finiscano presto perché noi non stiamo nella pelle per vedere la semifinale del torneo sconfitti al primo turno roger raya alfredino su burra e solfazio sono qui che fremono anche un po seccati dal fatto che questi qui li stiano facendo perdere tempo mi raccomando fai presto perché ti aspettiamo ciao a tutti